Buongiorno, parliamo ancora un po' di narcisismo e tiriamo in ballo un grande psicanalista del passato, Donald Winnicott, il quale a proposto di narcisismo parla di una fissazione alla fase orale. Ovvero, quando la madre non riesce a identificarsi empaticamente con gli stati d'animo del bambino, futuro narcisista, e quando la madre non riesce a tranquillizzare le ansie che turbano il bambino, il bambino diventa frustrato e la sua frustrazione incrementa la rabbia e di conseguenza il bisogno di incorporare la madre si tinge di aggressività e di colpa. Incorporare è un termine tecnico. Diciamo che all'interno della relazione madre-bambino troviamo la rabbia, l'aggressività, quindi un senso di colpa nel bambino. E così questa esperienza di assimilazione della madre, di incorporazione della madre, viene vissuta dal bambino come un'esperienza aggressiva, come un attacco del bambino alla madre. E da qui nasce la paura di essere a propria volta attaccato, cioè divorato, proprio perché siamo nella fase orale, quindi il bambino è nella metafora della nutrizione. Ha paura di essere divorato. Cosa succede a questo punto? Succede che inconsciamente la paura di essere divorati determina una difesa del tipo, prima che tu mamma mi divori e mi distrugga, lo farò io. Però c'è sempre un ma. Capiamo bene che l'origine di questo atteggiamento è proprio la vulnerabilità e l'impotenza. Quindi un sentimento di inferiorità che nasce dalla paura di perdere la madre, cioè l'oggetto d'amore. Questo è il meccanismo tipico del narcisista. Questo complesso di inferiorità infatti porta, attraverso i comportamenti tipici del narcisista, porta all'illusione onnipotente di poter controllare e manipolare l'altro. Questo è quello che si chiama un rituale, che è un tentativo di negare la paura. Un tentativo quindi di esorcizzare la potenza malefica dell'altro. E allora si capisce come la strategia tipica del narcisista, uomo-donna che sia, è quella di non poter svelare la propria identità per salvaguardare la propria fragilità. E non a caso una rappresentazione simbolica estremamente calzante alla psicologia del narcisista è proprio la figura del cavaleonte, che riesce a difendersi mimetizzandosi, nascondendo la sua reale identità. Il narcisista, come anche il Don Giovanni, della declinazione maschile, possiede questa facoltà camaleontica che si manifesta soprattutto nell'arte inconscia di incarnare le proiezioni maschili della donna che deve sedurre o le proiezioni femminili dell'uomo che deve sedurre. In sostanza è la facoltà di vestire i panni della persona ideale, dell'innamorato fedele che la donna e l'uomo ingenuo attende e sospira. Se volete approfondire questi temi vi rimando ad una playlist dedicata proprio al narcisismo che si trova nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata. Se volete richiedere una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando nome e cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre se volete leggere i miei libri sul narcisismo li potete ordinare solo su Amazon. Buona giornata. Grazie. Grazie.